Il giorno 18 novembre in Piazza Libertà la Polizia Locale aprirà uno stand, un gazebo, dove gli agenti di servizio insieme con i loro ufficiali metteranno a disposizione del materiale che i cittadini potranno consultare, poi i cittadini potranno anche chiedere delucidazioni, nonché prove, giornata che si inserisce nella celebrazione della giornata mondiale delle vittime degli incidenti stradali. La mio comune è in prima fila da sempre sul garantire la sicurezza stradale, lavori per ottenere sempre più una viabilità che dia sicurezza ai cittadini e tutti sanno che a Zignano è attraversata giornalmente da ben 35.000 autoveicoli, soprattutto commerciali e quant'altro, quindi la sicurezza deve essere osservata da tutti. Faccio anche un appello, in quel giorno lì, genitori, portate i vostri ragazzi, le vostre ragazze, i vostri bambini ad approcciare già chi è sulla strada a difendere la vostra sicurezza di circolazione.